E' un Caterpillar da quindici tonnellate, vogliamo fare un applauso ad Armando che adesso mi farà vedere cosa si può fare quando ho messo così pesante, è davvero poco pesante, guardatelo qua, allora avete problemi di spazio a caso, sardino stretto dovete metterlo a posto, Armando viene. Su condizionata e tra due ruote, non me ne accortete neanche, perché naturalmente per i certifici piccoli hai il Caterpillar clevino, poi lo cimento, piccolo 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 piccolo. Va bene grande Armando, che ca**o ce lo teniamo lì sullo sfonso Armando, vi raccomando anche un po' di cose perché Radio TJ è presente al Motolayre come radio di supporto di tutto l'evento, Noi tra i vincere siamo qua sul palco, il terreno di appena domenica, ovviamente ci atteneremo con gli speaker tecnici che invece entreranno nello specifico sulle discipline, ci saranno qua al motolive. Dietro a noi, dietro al palco, si è posizionato il nostro studio.